Stiamo lasciando Savanna e stiamo andando in Florida. Oggi è il 10 luglio ed è il mio compleanno. Happy birthday to me! E qual è il mio compleanno? All'ottobre. Siamo entrati in Florida in questo istante. L'ultimo stato della nostra vacanza. Peccato il brutto tempo perché questa è la vista del nostro hotel di Orlando e il tramonto meritava. Qui abbiamo la puntata. Questa sera veniamo a mangiare da Uno, che è un ristorante che fa sia pizza, sia carne, pasta, salate e altro. E poi danno abbastanza bene su internet. Qui al ristorante Uno una ragazza ha appena creato questa bellissima mini percina. Stiamo andando, indovinate dove? Ad incontrare un mini topolino di tutte le principesse della Disney. La nostra fermata è Simba 115, 120. Questa è la camera di commercio, questa è la City Hall. Non poteva mancare il giro sulla Giastra dei Cavalli. Mamma mia ragazzi. Guarda come vola tutto un po' vai. Questa è la mia ragazza. Con l'occhiere da sole ancora. Chi non molla fino alla fine. e l'acqua anche qui che noi siamo noi non temiamo la pioggia Sunshine State World Disney World dove i sogni diventano realtà oggi Epcot questa è la famosa palla di Epcot la Epcot Spear guarda Giulia siamo nelle stelle perfetto se piove lancio una nuova moda non è la famosa non è la famosa No, i gossi sono considerati a essere la gossi della foresta perché sono molto rari... Grazie a tutti. Una cosa tranquilla abbiamo preso. Una cosa tranquilla abbiamo preso. Siamo sul tappeto di Aladino. Are you ready? Un po' inquilino. Jungle River. Jungle River. e anche oggi pioggia oggi andiamo via da Orlando e andiamo verso West Palm Beach per tutto il preghetto dalla California fino a questo istante le autostrade sono state totalmente finite ora è a pagamento non capiamo il motivo ma qui in Florida si paga adesso vediamo quanto dobbiamo pagare 150 mi dai un dollaro? 150 non ci va come sempre nel nostro viaggio in Florida The Sunshine State di Luvione non si vede assolutamente nulla se vi piace questo video mettete un like e iscrivetevi al canale tante novità in arrivo ciao alla prossima ciao ciao